Tu conosci l'imputazione. Io sono innocente. Non ho ammazzato quello sfruttatore. Non riuscivate a incastrarmi e avete fabbricato le prove. In questo hai ragione. Ma il tuo vero crimine non ha nulla a che vedere con l'assassinio di quello sfruttatore. Ma allora qual è? Il tuo è il peggior crimine che possa essere commesso da un essere umano. Io ti accuso di aver sciupato la tua vita. Colpevole. Per questo crimine la condanna e la morte. Colpevole. Colpevole. Colpevole.